La storia si ripete, cronaca, informazione e fake news, un convegno nel Teatro Comunale di Novoli per non dimenticare quegli orrori. Secondo dei tre appuntamenti convenistici, nell'ambito della mostra itinerante dal titolo Razza Nemica, sono intervenuti Daniele De Luca, Fabio Ciracci, Attilio Pisanò e Salvatore Colazzo. Il convegno si inserisce nell'ambito dell'esposizione in corso nel Palazzo Baronale di Novoli, promossa dall'Associazione Nuova Liberazione Fucina Sociale, in collaborazione con la Fondazione Museo d'Orcia di Roma. La memoria è l'unico strumento che non abbiamo per poter capire i segni dei tempi, quello che è accaduto ovviamente sapendo che la memoria non è qualcosa di fisso, di cristallizzato e dobbiamo fare i conti non soltanto con le memorie che sono sempre private ma con la storia, quindi con i dati storici e con gli eventi. Ricordare vuol dire ricordare e riconoscere i segni dei tempi, non soltanto del passato ma di quello che potrebbe accadere nel futuro, sapendo bene che ogni tempo ha una sua specificità. Ancora oggi esistono dei fenomeni che fanno veramente preoccupare di antisemitismo e oltretutto esistono delle statistiche che constatano diversi casi in cui l'antisemitismo ha operato attraverso il web.